Salve a tutti ragazzi, qui è Andres in un nuovo video su Kingdoms Allora, come potete vedere siamo su Kingdoms e adesso facciamo un giochetto molto molto interessante Quindi vi chiedo un like a questi video, cerchiamo di farla diventare una bella e nuova serie Allora, in sostanza cosa bisogna fare? Bisogna indovinare il Pokémon Siccome vi porto Pokémon GO e altri format targati Pokémon Volevo anche farvi vedere se abbiamo, se ho un po' di abilità per quanto riguarda il riconoscimento dei vari Pokémon Allora, iniziamo subito Abbiamo trovato la regina del tempo che ci dice Rispondi correttamente a 5 domande, in 30 secondi ottieni una corona Allora, iniziamo subito Quale di questi è un Pokémon leggendario di prima generazione? Dragonite no, Mewtwo no, Zekrum no, Celebi no Dragonite no, Mewtwo sì, pardon mi sono sbagliato Mewtwo, corretto Ok Continuiamo Chi è? Ovviamente il Professor Oak Indimenticabile il Professor Oak ragazzi Quali di questi Pokémon ha un castoro? Budev, Bidoff, Starly e Shinx Assolutamente Bidoff Ok, abbiamo 8 secondi per rispondere ad altre domande Chi è questo Pokémon? Charizard Facilissimo Facilissimo Qual è il nome dell'UC Lumen? Buzzer Abbiamo sbagliato sull'ultima ragazzi Peccato, abbiamo perso Ok, altra partita Andiamo qua Le domandine Abitanti del Regno Rispondi correttamente a due domande per continuare a giocare Ok Come si chiama l'evoluzione di Torraket? Allora, Torraket è il Pokémon di Sole e Luna È la seconda evoluzione del gatto, quello di fuoco Che non mi ricordo più come si chiama Comunque la sua evoluzione è in Seneroar Assolutamente sì Continuiamo Chi sono? Lit Leo e Mi ricordo Pairoar Che ha la sua evoluzione Generazione X e Y Se non mi sbaglio questa X e Y Allora, selezioniamo Altro punto di domanda Abitanti del Regno Rispondi correttamente a una domanda per continuare a giocare Ok Come si chiama WeWile in giapponese? Boh Non la so WeWile Mangiura Ma che cavolo di nome? Vabbè Rigiochiamo ragazzi Ok Abitanti del Regno Rispondi correttamente a una domanda per continuare a giocare Va bene Ash Come ha trovato Pikachu? Al laboratorio vicino a casa Ovviamente Il mitico laboratorio del Professor Rock Ragazzi Come dimenticarcelo? Pazzesco Allora Abitanti del Regno Rispondi a una domanda Va bene Chi è quel Pokémon? Lo troviamo anche in Pokémon Go Questo Pokémon è Doom Sparge Il Pokémon Credo che sia il più inutile Del momento Ok Andiamo avanti Cosa è sta roba? Mai vista I Borbottoni Attenzione Rispondi correttamente a due domande su tre per continuare a giocare Ok Quali sono i tre starter di prima generazione? Una domanda più facile non ci poteva essere Charmedere Squirtle E Bulbasaur Ok Let's go Come si chiama questo Pokémon? Prima generazione Senstryu Fantastico Ok Continuiamo a giocare Vorrei trovare il Re Niente E continuiamo a trovare abitanti del Regno Chi tra questi Pokémon non può evolvere? Sì Chi tra questi Pokémon non può evolversi? Servine Charmilion Ghiratina e Popplio Ghiratina e tutti gli altri tre sono Pokémon Pokémon Starter Ok Andiamo avanti Prendiamo qua Oh finalmente abbiamo trovato il Re Imperatore del Regno Rispondi correttamente a una domanda E gli dici una corona Molto bene Chi è quel Pokémon? Maractus Non so di che generazione sia Però si può intuire che sia Maractus Ok Andiamo avanti Cerchiamo di trovare subito il No niente Di trovare il Re Invece abbiamo trovato un abitante del Regno Che ho quel Pokémon Chi è quel Pokémon? Samuroth Ovviamente Devote è la sua pre-evoluzione Blastoise e Wartoltole Sono della prima Gen Andiamo avanti Ok Nooo la Regina del Tempo 5 domande in 30 secondi Ragazzi Ok Chi è quel Pokémon? Bastido Ok Andiamo avanti Abbiamo ancora 26 secondi Chi è quel Pokémon? Bergmite Ok E due Regno E due Regno Ne abbiamo fatte Chi è quel Pokémon? Di che Pokémon si trattiamo? È il GM Ok Fantastico Ragazzi Chi è quel Pokémon? Mega Charizard Oh cavolo X o Y Porca sozza X Ok Chi è quel Pokémon? Ippodon Fantastico Fantastico Risposto a 5 domande In 30 secondi Se non mi sbaglio Fantastico Abbiamo preso un'altra coroncina Ok Adesso cerchiamo Ok Adesso cerchiamo Il Re Eccolo qua Imperatore del Regno Fantastico ragazzi Ok Chi è quel Pokémon? Mega Alla Kazam Bellissimo ragazzi Questa foto Non rende il fascino Si è un petno Già Già Grazie a tutti